Cerchi una soluzione per impermeabilizzare e facile d'applicare, super elastica fino a 750% e utilizzabile fuori e dentro casa? Bostik gomma liquida è la soluzione. Perdita dalla grondaia? Applica Bostik gomma liquida sulla fessura dopo aver pulito e ruvidito la superficie e subito dopo una striscia di Bostik banda rinforzante. Procedi poi immediatamente con un secondo strato di Bostik gomma liquida. Se non utilizzi Bostik banda rinforzante dovrai aspettare circa 10 minuti prima di applicare il secondo strato di Bostik gomma liquida. Vuoi evitare che il legno della tua staccionata marcisca? Proteggilo con Bostik gomma liquida e in questo modo il problema sarà risolto definitivamente. Devi installare un nuovo bagno e vuoi evitare infiltrazioni future? Impermeabilizzalo con Bostik gomma liquida. Perdita dal lucernario? Usa Bostik gomma liquida. Scopri le innumerevoli applicazioni di Bostik gomma liquida per fuori e dentro casa. Renderai tutte le superfici 100% impermeabili all'aria e all'acqua in modo semplice e veloce. Bostik gomma liquida qualità superiore per impermeabilizzare. Fino al 750% di elasticità permanente. Bostik gomma liquida è l'ideale per sigillare, proteggere e riparare tutte le superfici. Bostik gomma liquida è superforte. Bostik gomma liquida facile da applicare permanentemente elastico per interni ed esterni rispettoso dell'ambiente.